sono in afterman, mio bambino ha fatto zero, bravo morire, vieni qua ma c'è il bambino, ma c'è il bambino come c'è il bambino? stai facendo la bella chi è il cavallo più bello del mondo? si, piccolino ma di mio ti 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 ma mi morde il lit ti pareva che ti fermavi a mangiare, brutta maiale cavallo numero 2, baby sto circunnavigando sella del mio equide performante, sempre ragazzi, occhiale perché ovviamente sono ancora in after pensavo questo momento oggi non sarebbe mai arrivato invece si ragazzi, ora ho sonno, vorrei andare a letto ho delle occhiaie pazzesche però dettagli invece adesso devo andare a esagerare il complex del Tony ti auguri io non ce la faccio con questo piercing, grazie, quanto fa sesso adoro come tutti gli altri piercing ovviamente adesso me ne vado finalmente a letto buonanotte motherfucker grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti